Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Ciao a tutti sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Un saluto Ciao sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre ma sempre Radio Inizia il Campionato Gentili radioascoltatori benvenuti a Che Goli programmi in collaborazione con i colleghi di Calcio Mercato Report è un piacere oggi come tutti lunedì avere Simone in diretta Simone Aiello buon pomeriggio Simone Buon pomeriggio a te Daniele buon pomeriggio a tutti quanti i radioascoltatori di Radio Allora oggi voglio aprire perché lo sai che noi parliamo sempre del calcio femminile Simone io voglio aprire la puntata con la Supercoppa femminile che si è giocata ieri alle ore 12.30 a Cesena Allora ha vinto la Juventus femminile per 2-0 sulla Fiorentina ha segnato prima Cristiano Ageli e poi Andrea Stancova e io dico faccio una mia premessa il calcio femminile sta sempre andando benissimo e allora ieri ha giocato una buona partita la Juventus anche la Fiorentina però non ha avuto la Fiorentina con l'impatto proprio per pareggiare il match è stato quasi fino al 92esimo che ha segnato il raddoppio la Juventus che poteva vincere, pareggiare la partita almeno portare le tempi supplementari questo non è stato possibile però ha vinto la Juventus Juventus femminile che sta veramente giocando un grande campionato e sta giocando anche una bellissima Supercoppa la Fiorentina deve migliorare qualcosa però anche la Fiorentina si può giocare un buon campionato di Serie A vince la Juventus per 2-0 la Juventus ha una grande giocatrice nazionale Cristiana Girelli ed è molto 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 brava direi che le ragazze stanno veramente facendo un baffo ai ragazzi perché sanno come si gioca a calcio e riescono a prendere anche i punti importanti ieri per la prima volta c'è stata non solo in televisione ma c'è stata per la prima volta la radio cronaca di Juventus e Fiorentina Supercoppa femminile e quindi è stato un grande successo per tutti i radioascoltatori quindi a Juventus che batta Fiorentina per due reti a zero e quindi hanno veramente dato qualcosa di interessante brava Rita Guarino che ha vinto la Supercoppa femminile l'anno scorso ai danni di Antonia Cincotta che è l'allenatrice della Fiorentina l'anno scorso l'anno scorso la vinse proprio alla Fiorentina e allora adesso passiamo alla Serie A allora con la nostra campanella siamo passati alla Serie A alla Serie A Simone e allora io ricordo prima i risultati e poi partendo da te parliamo in generale delle partite con il programma in termini generali facendo anche una comparazione col prossimo turno che te lo ricordo brevemente allora si giocherà domani alle 19 Parmella Sverona alle 21 di domani Brescia Inter mentre mercoledì alle 19 si giocherà Napoli Atalanta alle 21 si giocherà Cagliari Bologna Juventus Genoa Lazio Torino Sampdoria Lecce Sassuolo Fiorentina Udinese Roma e giovedì alle ore 21 si giocherà Milan Spal con tutti i risultati e con le partite che ci saranno Simone poi anche tu possiamo fare partendo da te un nostro epilogo ricordando la classifica che vede sempre prima la Juventus a 23 punti Inter secondo a 22 e l'Atalanta raggiunto a meno 3 la Juventus a meno 2 l'Inter Sì Daniele la giornata appena conclusa di Serie A ci ha portato a pochi risultati inaspettati dato che l'Atalanta ha vinto per ben 7 a 1 contro l'Udinese il che era un risultato scontato non tanto per i tre punti ma quanto anche per le reti segnate che sono davvero tantissime dato che la squadra bergamasca in 9 partite di Serie A ha già segnato 28 reti che è davvero un bottino enorme l'Inter però ha fatto fatica pareggiando 2-2 col Parma così come la Juve quindi la classifica per i piani alti è cambiata davvero di poco l'Atalanta ora è più vicina al primo e al secondo posto di 3 e 2 punti rispettivamente ma nei piani alti della classifica si cambia poco dato che anche Lazio e Roma sono riusciti a vincere però ti dico una cosa l'Inter aveva un avversario un po' più ostica perché il Parma è ottavo mentre la Juventus aveva il Lecce che è adesso sedicesimo in classifica quindi voglio rendere l'idea degli avversari che hanno avuto la prima e la seconda certo ovviamente gli avversari sono diversi però erano due sfide da vincere a tutti i costi per entrambe le squadre quindi poco importa se le due squadre rispettivamente Parma e Lecce fossero in due zone un po' diverse nella classifica però l'importanza della gara l'importanza dei tre punti era scontata e ciò non è avvenuto in entrambi i casi così come invece il Napoli continua a steccare pareggiando contro la Spal e creando l'ennesimo risultato deludente dato che i tifosi partenopei hanno già ormai abbandonato il sogno dello scudetto che tanto si spera da tempo a Napoli essendo già a sei punti dalla vetta e addirittura un quarto posto che non gli garantisce sicurezza in termini di accesso alla Champions League dato che gli avversari sono davvero tanti il Milan invece continua a perdere è l'ennesima sconfitta sono già cinque in appena nove giornate Pioli non continua a dare la prestazione che invece era stata offerta precedentemente contro Lecce e in una partita disastrosa a livello tattico e marchiata anche da errori banali dei singoli ne esce sconfitto contro una Roma che invece è risultata propositiva e senza alcun tipo di problema mentale problema a livello di gestione è risultata una squadra tranquilla per nulla tesa rispetto a quanto è successo in Europa League con il rigore regalato agli avversari del Borussia Mönchengladbach e è riuscito quindi a battere un Milan davvero pessimo l'ultima sfida su cui voglio concentrarmi è nel Fiorentina-Lazio dato che la Lazio ha vinto 2-1 in extremis con una rete di Ciri Immobile all'89 ma al 97 Caicedo si è visto parare da Dragoschki il rigore che avrebbe consentito di chiudere la partita definitivamente è stata una sfida particolare perché le due squadre in tanti casi meritavano il pareggio per quanto si è visto sul campo ma i bianco celesti hanno avuto l'aggressività di cercare la vittoria a tutti i costi e la qualità dei singoli ha premiato e a lungo andare la Fiorentina non è riuscita a portare a casa almeno un punto in una partita così complicata però non sono da meno le colpe dell'arbitro Reo di aver concesso il gol di Ciri Immobile all'89 dato che secondo molti l'assist di Jordan Lukaku non sarebbe dovuto nemmeno esistere siccome il giocatore aveva fatto precedentemente fallo e quindi la partita è stata per i tifosi di Gigliati addirittura un furto della squadra romana ai loro danni però sicuramente la Fiorentina si rifarà nel prossimo turno di Serie A e allora io vorrei adesso perché non vogliamo tralasciare velocemente le altre squadre io analizzerei partendo dall'Elas Verona Sassuolo che con il Sassuolo che era un pochino diciamo il Sassuolo messo male all'io di classifica arrivata al Verona con tre punti vincendo per una rete a zero e allora vincendo per una rete a zero da fiducia alla squadra dell'ex allenatore del Benevento e allora vuol dire che il Sassuolo ce la può fare Genoa-Brescia arriva a Tiago Motta e vince con Tiago Motta 3-1 adesso Brescia si trova a dittesima posizione con sette punti Genoa c'ha sette punti c'ha settesima con otto punti però il Genoa ha dato molta fiducia e non si è mai visto in campionato questo tre cambi tre gol che hanno portato al Genoa vincere la partita Bologna vince sulla Sampdoria per 2-1 Sinak Mialovic sta veramente regalando delle gare davvero interessanti al Bologna che adesso ormai il Bologna si trova addirittura in decima posizione con 12 punti e fa ben sperare per la media classifica e vuol dire tanto poi il Torino di Mazzari che pareggio il Cagliari 1-1 ieri quando si sentono le interviste se ne dicono si dice di tutto e di più e allora vuol dire che ha parlato che gli ha detto io ho sentito l'intervista Simone tra Marocchi e Mazzari quando ho intervistato a Sky gli ha detto che avete fatto una buona partita avete giocato molto bene gli ha detto che dovete un pochino migliorare si è detto sempre tante cose diverse si è detto e quindi però veramente hanno fatto il Torino ha fatto una bella partita peccato che non è riuscito a vincerla però è andata prima in svantaggio e poi appare con in svantaggio perché Nandez del Cagliari ha segnato Zazza poi andiamo queste sono le altre partite che veramente si dove non non erano state comunque che abbiamo analizzato allora alla nona giornata allora l'Inter che ha pareggiato col Parma allora l'Inter va a Brescia il Parma va contro Collellasi il Napoli va in casa contro l'Atalanta e poi il la Spal va in casa del Milan poi allora l'Udinese che ha perso 7-1 va con la Roma poi Sampdoria che ha perso con Bologna e Lecce e poi ci sarà anche Lazio-Torino Juventus-Geno io voglio fare un escursus generale prima io e poi ti passo velocemente la parola che questo sarà un turno bellissimo ci sarà un bel Lazio-Torino e un bellissimo Napoli-Atalanta due partite interessanti però la Juventus che affronterà il Genoa in casa all'Allianz Stadium come il Brescia e l'Inter che andrà in casa e Brescia cambia io voglio dire che tutte queste partite il Napoli che affronta l'Atalanta vuol dire sarà una partita diversa perché il Napoli non deve sbagliare non deve perdere questa occasione perché comunque l'Atalanta è molto molto forte perché vincendo per 7-1 contro l'Udinese ha l'opportunità se faccio un esempio l'Inter dovesse perdere e la Juventus dovesse perdere andare prima in classifica ma una mia ipotesi è il Milan che ha perso contro la Roma deve andare a caccia di una vittoria contro la Spalla ha la possibilità il Milan di vedere tutte le altre giocare perché giocherà nel unico e solo posticipo del giovedì contro la Spalla e la possibilità di capire come potrà essere la classifica in caso di vittoria la Roma che può continuare le sue vittorie a Udine e può la sua vittoria a Udine quindi Tudor non ha fatto una buona partita questa qua perdendo 7-1 contro l'Atalanta si vedrà contro la Roma perché l'Udinese è dodicesima a 10 punti però non può perdere il treno il treno secondo me non lo potrà perdere anche Lecce che in casa le Sampdoria e Lecce Lecce non lo potrà perdere perché dopo il parigi con la Juventus e neanche Sampdoria perché hanno due obiettivi diversi Lecce che è sedicesima a 8 punti la Sampdoria e ventesima a 4 punti e uno cambia il risultato e Lazio Torino vabbè Lazio che ha vinto 1-1 il Torino che ha parigi ad 1-1 hanno tanto da dire poi Parma e Las Verona hanno tanto da dire questa era una partita di un diciamo di media di me la seconda che sta più in bassa classifica il Parma in alta in media classifica diciamo ha tanto da dire a te il commento per questa giornata a meno che correggi ah ho dimenticato Cagliari Bologna se non erro Cagliari Bologna il Cagliari ha una buona posizione il Cagliari settima a 15 punti il Bologna ha decima a 12 punti bellissimo perché è a parità punti il Cagliari con la Lazio quindi a zona Europa League mentre Bologna è zona media classifica e quindi hanno anche diverse opportunità e diciamo che Cagliari se le è perse l'opportunità almeno di andare per poche ore a le qualificazioni di UEFA e Europa League per come la classifica a te Simone per analizzare tutto il turno Sì Daniele le partite da analizzare sono diverse le più interessanti secondo me sono sicuramente quella che vede il Napoli contro l'Atalanta perché il Napoli viene da un periodo davvero nero a livello di risultati ma anche a livello di prestazioni l'unica costante è Arkadiusz Milik e l'attacco però eccetto il Polacco gira poco il centrocampo sembra scomparso e il palleggio sta diminuendo e la difesa spesso prende delle imbucate clamorose il tutto perché l'attenzione che ci mettono i giocatori in campo sembra addirittura calata l'Atalanta invece sta gongolando dopo gli ultimi risultati di Serie A ovviamente e la sfida è sicuramente interessante anche perché l'Atalanta è sempre stata storicamente un avversario ostico dei partenopei i nerazzurri infatti spesso e volentieri negli ultimi anni hanno battuto il Napoli anche quando erano in zone vicino al fondo classifica quindi la sfida del 30 ottobre alle 19 sarà ovviamente obbligatoriamente da seguire perché è uno scontro interessantissimo così come lo è secondo me la partita che si giocherà il 30 alle 21 Lazio-Torino è una sfida tra una squadra in crisi che è quella ospite come quella Granata dato che i giocatori stanno davvero deludendo le attese di inizio stagione non arriva un risultato non arrivano i tre punti dalla vittoria contro il Milan che risale addirittura al 26 settembre e i tre punti sono davvero un'utopia per la squadra di Walter Mazzarri e la Lazio invece è galvanizzata dopo l'ultimo positivo risultato all'Artemio Franchi quindi è una sfida davvero particolare e che dà risultato per nulla certo una squadra galvanizzata contro una invece che sta quasi vedendo gli inferi da circa da più di cinque giornate queste sono le due sfide ovviamente più importanti da sottolineare anche l'ultima ovvero quella del 31 alle 21 che vede il Milan affrontare la SPAL perché il clima di tensione tra i tifosi e società rossonera è palese e molti molti sostenitori del club di Vialdo Aldo Rossi hanno deciso di non andare allo stadio la curva protesterà ovviamente ancora contro la società e contro anche i giocatori rei di non averci messo il giusto impegno e la giusta concentrazione e il clima non sarà per nulla tranquillo e lo stadio molto probabilmente non sarà riempito come nelle nelle ultime giornate in cui i rossoneri potevano contare oltre 50.000 sostenitori che non sono comunque riusciti a dare la giusta forza la giusta spinta per vedere la loro squadra vincere quindi la SPAL che è un avversario ricordiamolo che tende molto sulla difensiva a ripartire sui contropiedi ma che è davvero molto ben organizzata e che soprattutto ha già è riduci da un pareggio contro il Napoli sarà davvero una gara dura e tosta per gli uomini di Stefano Pioli allora io ti dico allora ti dico questa cosa prima di questa serie B che hanno detto Boban e Maldini se non ci sono le coperture importanti da parte del fondo Elliot hanno detto che se ne andrà se ne vorranno andare queste sono notizie ufficiali che l'hanno detto adesso passiamo alla serie B allora voglio ricordare un attimo Simone prima un pochino i risultati allora il Benevento che perde la zona alta della classifica perché lo vediamo il risultato locemente allora Ascoli 2 Entella 1 Spezia a 2 Juve Sabia 0 Pescara 4 Benento 0 Trapani 2 Empoli 2 Salernitana 1 Progia 1 Pordenone 0 Città della 0 Cosenza 1 Chievorona 1 Crotone 3 Venezia 2 Livorno 1 Pisa 0 Cremonese Frosinone 1 ad 1 allora dicevo il Benevento ha perso la linea classifica perché ha perso contro il Pescara 4 a 0 e poi si è rettuata ad entrare nel nel mezzo di questa partita e allora il Crotone che ha vinto 3-2 contro Venezia si porta avanti in classifica c'è stata una bella partita tra Livorno e Pisa che poi vi andrò ad analizzare io nella mia partita poi vi ricordo dopo che abbiamo analizzato su due partite una partita interessante per quanto riguarda il turno che si giocherà domani e mercoledì Simone a te la parola per analizzare Pescara Benevento finita 4 a 0 per il Pescara sì la partita che volevo analizzare appunto è Pescara Benevento mi ha stupito in particolare il risultato finale una vittoria schiacciante dei Delfini contro la squadra che è tuttora prima in classifica in realtà seconda per differenza a reti ma prima a livello di punti nella Serie B il Pescara infatti si porta a quota 13 punti dopo questa vittoria e il Benevento rimane inchiodato a 18 punti non consentendo quindi alle streghe di superare il Crutone nella classifica generale i marcatori sono Memujai al 46esimo Machin al 53esimo poi ancora Machin al 76esimo e Riccardo Maniero al 93esimo è una sfida però che ha solamente a senso unico dato che sia posto a sopalla che tiri in porta sono dalla parte dei padroni di casa i bianco-azzurri hanno surclassato in ogni zona del campo gli avversari e il risultato finale ne è la prova schiacciante quindi la squadra di Filippo Inzaghi per la prima volta si trova ad affrontare un'avversaria che la mette seriamente in difficoltà e ciò deve obbligatoriamente far passare l'ex allenatore del Milan il pensiero che dalla prossima partita ovvero che si giocherà tra due giorni contro la Cremonese in casa deve dare già la svolta e consentire di riacciuffare quei tre punti che potrebbero far respirare i giallorossi consentendogli magari addirittura di ritornare al primo posto in classifica allora io ho preso questa come ben sai Livorno-Pisa perché è il derby toscano ma come ben sai è una sfida che va avanti da tanti anni io Simone se tu lo non so se lo sai che il Pisa nel derby a Livorno quando si gioca le partite a Livorno non vince da 41 anni quindi sono ben tantissimi anni il Livorno vince con un autorete di Simone Benedetti della Pescara però hanno avuto tantissimo tempo per vincere questa partita perché al cinquantocinquesimo Luca Bogdan del Livorno il primo per doppio giallo il primo le ha fatto un fallo al trentottesimo al cinquantocinquesimo viene espulso e allora il Pisa doveva costruire secondo me la partita però il Pisa non lo ha non è riuscita a prendere spunto dall'espulsione perché dopo 11 minuti si fa per condotta violenta Speller era uscito al 64 Andrea Meroni e Samuele Brindelli era entrato due minuti è durata la partita di Brindelli è stato espulso Samuele Brindelli per condotta violenta allora si torna in parità numerica e il Pisa non riesce a giocarsela per il meglio questa partita peccato perché una vittoria importante per Roberto Breda ai danni allenatori Luca D'Angelo portano bellissimi portano un po' di punti a Livorno che è settima e il Pisa rimane quattorgesimo a dieci punti e quindi qui un derby davvero interessante peccato che sono 41 anni che il Pisa non vince in casa di Livorno ti ricordo per analizzare l'unica partita che analizzeremo nel prossimo turno è Chievo Verona Crotone ti dico allora domani si giocherà alle ore 21 Venezia Pordenone Cittadella Livorno Pisa Salernitana Empoli Spezza Chievo Verona Crotone Virtusentella Cosenza Perugiascoli Juve Sabbia Pescara poi mercoledì si giocheranno i due posticipi alle 18.50 Vento Cremonesi alle 21 Frosinone Trapani allora perché abbiamo scelto Chievo Verona a Crotone perché si parla della tessa parte alta della classifica Chievo Verona è settima a 14 punti e Crotone è primo a 18 punti allora partiamo con te Simone e poi con me prima di passare a una partita che ho voluto dedicare perché è una partita importante Liverpool Tottenham Sì la sfida tra Chievo Verona e Crotone sarà sicuramente da seguire dato che le due squadre vivono un ottimo periodo di forma il Chievo infatti non perde addirittura dal 25 di agosto contro il Perugia e i risultati gli ultimi risultati sono davvero entusiasmanti per la squadra di Marcolini e tutto ciò fa presupporre essendo anche una sfida in casa ad una gara giocata ad alti ritmi ad un'altissima intensità in cui l'attacco del Chievo soprattutto grazie a Giorgiovic e Pucciarelli a superare un Crotone che però è primo in classifica e davanti 4 punti ai mossi volanti i i rosso-blu infatti dopo la vittoria per 3-2 dell'ultima giornata con i dati nel vertice della classifica e la sfida contro il Chievo Verona dirà davvero che cosa può portare come è che finirà come è che potrebbe finire questa questa serie BKT dato che se il Crotone continuerà su questa striscia è davvero indicata come una tra le squadre che tornerà più velocemente in serie A allora io voglio dirti le partite testa a testa tra per questa partita tra Chievo Verona e Crotone tutte in serie A allora il 6 maggio 2018 il Chievo Verona batte 2-1 il Crotone 17 dicembre il Crotone batte Verona 0 il Chievo e il 2 aprile 2017 il Chievo 1 Crotone quindi diciamo le sfide che se è seria le vince 2-1 il Crotone però qui è una bella bella sfida diciamo che qui il Crotone ha possibilità di allungare per il momentaneamente per una notte ha la possibilità di allungare perché Benevento gioca mercoledì contro la Cremonese quindi ha la possibilità di allungare e se vince l'Empoli potrebbe già acciuffare l'Empoli potrebbe acciuffare il Benevento che gioca domani contro lo Spezio e questa partita è davvero importante e il Chievo deve per forza vincere almeno per arrivare a 17 punti a meno che non perdano Perugia Salernitana ed Ascoli devono perdere però sono squadre molto molto brave e quindi sarà una sfida davvero importante che si dovrà aspettare solo il triplice fischio dopo i minuti di recupero dopo il novantesimo io adesso voglio un attimo analizzare una partita velocemente di Premier che è stata Liverpool Tottenham dopo la campanella la campanella ci dice sempre ad ogni argomento allora analizziamo Liverpool Tottenham allora io vedendo Liverpool Tottenham ho capito tante cose perché mi spiego come mai Liverpool ha preso un gol subito al primo minuto con Henry Kane vinceva un Liverpool segnava al primo Henry Kane poi pareggia al cinquantonesimo Jordan Henderson sul rigore Mouametsalavi segna il 2-1 ma com'è possibile che Henry Kane segna al primo minuto è stato tutto un errore della difesa della difesa e quindi porta in vantaggio il Tottenham per una rita a zero fino alla dopo fino alla fine del primo tempo che sono stati tre minuti di rigore poi il cinquantesimo segna Jordan Henderson le cose iniziano a farsi male per il Tottenham perché il Tottenham non è che fa una grande partita non gioca chissà che partita però ha avuto tantissime occasioni poi se non c'era stato quel gol sul rigore di Mouametsalavi finiva almeno secondo me 1-1 o poteva vincere il Tottenham peccato per il peccato però bene per il Liverpool che consente dalla classifica Liverpool prima a 28 punti e undicesimo del Tottenham a 12 punti se vuoi aggiungere qualcosa Simone prima di concludere la nostra trasmissione sì l'unica cosa un'ottima partita di Paolo Gazzaniga il portiere del Tottenham che tra l'altro ricordiamolo è il terzo portiere del Tottenham ha davvero compiuto un numero enorme di parate dato che i tiri in porta del Liverpool sono stati addirittura 21 e dato che un gol è stato segnato su rigore i tiri che Paolo Gazzaniga ha dovuto parare sono stati davvero tantissimi quindi un plauso al portiere argentino che si è fatto trovare pronto in una situazione in cui di solito è presente Hugo Lloris allora siamo arrivati alla fine per quest'oggi dopo aver analizzato Supercoppa Femminile Serie A Serie B anche i turni che ci saranno in frasetti manali e Liverpool Totem allora ringraziamo i colleghi di Calciomercato Report salutiamo Attilio Malena Attilio il direttore di Calciomercato del Partito Malena salutiamo Simone Aiello che ci ha fatto compagnia e che ci farà compagnia fino alla fine del diciamo del campionato con che gollo tutti il lunedì a lunedì prossimo Simone ciao Daniele ciao a tutti quanti i radioascoltatori ciao Daniele ciao a tutti quanti i radioascoltatori ciao Ciao sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio inizia il campionato ciao sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio inizia il campionato ciao sono Gusto Santini e anch'io ascolto Radio inizia il campionato ciao ciao a tutti sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.